Bruno Editore presenta Immobili a costo zero 15 metodi per guadagnare ed investire in immobili senza soldi Di Giacomo De Carlo Introduzione Guadagnare in immobili è una delle cose più affascinanti che si possano realizzare nella vita Ancora più affascinante è farlo a costo zero, ovvero senza spendere soldi Anche perché è così che al giorno d'oggi i veri investitori immobiliari realizzano le loro operazioni Tuttavia, iniziare ad investire in immobili senza soldi è molto difficile per chi si cimenta per la prima volta in questo campo E non possiede le risorse e le finanze necessarie Il corso quindi risolverà questo problema che all'inizio hanno tutti Presentando una rassegna di metodi, alcuni dei quali molto moderni Per guadagnare ed investire in immobili a costo zero Ovvero senza avere soldi in modo da poter guadagnare in questo campo A volte migliaia, a volte decine di migliaia, a volte centinaia di migliaia di euro Ciò ti consentirà di raggiungere la libertà finanziaria prima e la ricchezza poi E inoltre ti farà realizzare dal punto di vista personale e sociale Facendoti diventare un punto di riferimento per molte persone Oltre a ciò vedrai quanto sarà bello avere tanti soldi in banca Ed essere proprietario di svariati immobili che ti faranno guadagnare un sacco di soldi Tieni presente comunque che potrai raggiungere questi risultati solamente se ti impegnerai a fondo Imparando bene i metodi descritti in questo corso e applicandoli nella realtà Questo punto è davvero fondamentale e non solo per il campo degli immobili Infatti impegnarsi a fondo nelle cose è la differenza che fa la differenza in tutti i campi della vita Ricordalo bene Buon apprendimento!